Benvenuti su Hermes Channel Web TV, oggi a Saike Sport Hobby, questo video è praticamente un tutorial di come costruirsi un semplice aquilone. Il presidente del team via col vento Leonardo Rinaldi di Castellana Grotte ce lo spiegherà passo passo appunto nel prossimo video. Ma prima di vedere il video iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video e commentate assolutamente tutte le puntate che vi sono piaciuti o anche no, perché? Perché no? Naturalmente volevo anche aggiungere se qualcuno vuole sponsorizzare questa bellissima iniziativa, queste trasmissioni, questi video ci può contattare. E adesso vediamoci il video! Ciao, oggi ci troviamo in compagna del signor Leo Rinaldi. Ciao Leo! Buongiorno! Presidente dell'associazione team via col vento di Castellana Grotte. Ecco oggi Leo ci mostrerà tutti i passaggi di come viene realizzato un aquilone. Infatti la prima domanda che ti faccio Leo è come viene creato un aquilone se è semplice oppure è abbastanza complesso. Allora, tutti gli aquiloni sono abbastanza semplici da realizzare. Chiaramente bisogna capire un po' le tecniche e quindi la realizzazione dell'aquilone diventa facile dopo che uno apprende queste piccole accortezze. Quindi passiamo a vedere come viene realizzato un aquilone. Allora, basta prendere un pezzo di foglio di carta, possibilmente se è plastificato è meglio perché dura più nel tempo, prendendo un foglio rettangolare con delle misure di 44 x 78 di larghezza, il foglio viene suddiviso in tre parti dalla parte del 44, praticamente viene piegato in tre. Allora, il primo spezzone che viene misurato bisogna tagliarlo in maniera diagonale e dare la possibilità di farlo diventare un aquilone a rombo. Questo fa dare la possibilità all'aquilone di avere una sua ampiezza alare. Noi oggi stiamo realizzando uno sled, un piccolo sled facilissimo da far volare e nello stesso tempo abbastanza facile da realizzarlo. Quindi ci vuole poche attrezzature, quindi un foglio di carta, due piccole stecche che possono essere stecche da fioraio oppure stecche da barbecue, un po' di scotch, del filo che si deve realizzare sia per l'imbragatura dell'aquilone e sia per farlo volare. E poi questo è un piccolo nastro da regalo, facilissimo da recuperare, per creare la coda dell'aquilone che ha abbastanza l'importanza per farlo volare e farlo diventare stabile. Quindi noi incominciamo a creare l'aquilone, oggi c'è il vento che ci sta aiutando, però quando ci sono queste fasi ha bisogno di un po' di spazio in più. Allora si prende un po' di scotch, una volta tagliato l'aquilone alle misure che vi ho detto bisogna fermare le stecche, quindi con lo scotch diamo la possibilità alla stecca di rimanere bella ferma, quindi si dà la prima possibilità allo scotch, all'altro pezzo. Si fa prima questa fase per bloccare le stecche, quindi non si spostano prima della finale, della realizzazione dell'aquilone. Una volta fermate le stecche con i quattro punti si può realizzare la chiusura definitiva, quindi mettere uno scotch un po' più grande Allora abbiamo iniziato a fare la sua steccatura dell'aquilone. Allora si prende un piccolo filo, che basta anche quello da cucito, che uno ha la mamma, Allora, il filo, questa è la lunghezza normale, intorno a un metro, si prendono le punte dell'aquilone e si fa un doppio bordo per far sì che il filo viene bloccato correttamente. Ora la stessa cosa si fa dall'altro lato. Giriamo lo scotch, così diventa ancora più stabile. Ora, si uniscono le due punte dell'aquilone, già vol volare, si prendono le due punte dell'aquilone e si crea il baricentro dell'aquilone, che sarebbe questo. Qui si fa un piccolo nodo. Questa viene chiamata briglia dell'aquilone e qui viene agganciato il filo dove lo facciamo volare. Ora è rimasto da mettere la coda. Questo, come vi ricordavo, è un semplice nastro da pacco. viene sistemato dove finiscono le due stecche, lo scotch per rinforzarlo. è un semplice, lo scotch per rinforzarlo. E ora si prende l'altro filo. Chiaramente io ho usato un colore diverso per dare la possibilità di capire le due differenze di filo. Allora, questo filo viene agganciato alla briglia e l'aquilone è pronto. Il bello di questo aquilone è che se dovesse cadere e rompersi, sempre con lo scotch c'è la possibilità di farlo, di ripararlo senza avere spese ulteriori. Quindi economico, facile e un aquilone che vola. Ecco, adesso ci sposteremo così Leo ci fa vedere come far volare l'aquilone. Allora, ci mettiamo dove c'è più spazio. Quindi dove non ci sono turbolenze di vento. Allora, l'aquilone ha bisogno sempre di avere il vento alle nostre spalle e quindi farlo volare è un gioco. Quindi vi auguro un buon volo a tutti e di realizzare tanti piccoli aquiloni e di fare una piccola manifestazione tutti insieme. Quindi speriamo, grazie a te Leo, speriamo come sempre che i suggerimenti che vi ha dato Leo vi siano piaciuti e soprattutto vi siano stati utili. Sai che può interessare o coinvolgere anche te! Ciao, arrivederci! Grazie!